buonasera buonasera a tutti benvenuti e ben ritrovati al blog del camionista sempre col vostro silvano videino a volo a volo solo per luigi pezzullo caro gigino come hai promesso devi venire a trovarmi se no ti querelo sei tu che hai detto che devi venire a trovare me ed è già la seconda volta i camionisti di una volta si trovavano faccia a faccia questo te lo ricordo come ha sempre detto il buon mazzi detto questo da domani solo video dal muletto e da tutto quello che non riguarda il camion e solo per voi ma in particolare per il nostro caro gigino gigino ti devo fare morire ma metaforicamente parlando si intende ovviamente video solo da tutto quello che non riguarda il camion visto che non faccio visualizzazioni visto che non mi segue nessuno io mi domando a questo punto da cosa scaturisca tutta questa rabbia e penso dobbiate domandarvelo anche voi ciao da silvano e dal blog camionista ciao gigino viene a trovarmi perché sennò io sono di parola ciao